Come so' contenta di prestare il tuo cuore Portami lontano e dammi tanto amore Avete una caratteristica Tu avvalli e chiudi la caratteristica Tutto po' che niente è materiale Mi piacerebbe che ripidiassimo il nostro ragionamento sul lavoro da qui Dalle cose che fate voi, dalle cose che ci ricordano i trattori, dalle storie Io avevo voluto anche cogliere questo aspetto di questa storia di questo anziano Meccanico emiliano che poi alla fine si innamora qui E trova una sua dimensione umana più compiuta qui E mi era piaciuto anche perché anche questo tu lo raccontavi durante la presentazione Perché alla fine state riuscendo a fare una cosa che secondo me è molto bella da più punti di vista E' uno di questi punti di vista E che non solo cercate di resistere all'idea di dovervene andare da qui Per poter vivere e lavorare Ma state riuscendo anche a portare altre persone da altre parti d'Italia qui E quindi questa sorta di emigrazione alla rovescia E in qualche modo, ripeto nel racconto, nel romanzo Perché poi è una realtà romanzata A me è piaciuto cogliere anche questo aspetto delle persone che da altri posti vengono qui E qui trovano delle cose, il lavoro, l'amore E' bellissima questa cosa dell'ape Non lo so con quanta consapevolezza O meglio, forse credo sia casuale O ti ha ispirato qualcosa l'immagine che hai visto del pali, del camp di grano Però il fatto che l'ape, Utre Rode, se faccia il racconto E' proprio la chiave di quello che è il nostro legame come comunità con la campagna In dialetto si dice, agei fora Cioè si esce dal paese, dalla casa, pigli fora, pigli in campagna E il mezzo con il quale si vai fora Se non è Utre Rode, l'ape, o moto zappe, ma siamo là Cioè, l'uscire fuori per arrivare alla campagna Il dinamismo, l'ho detto questo mezzo Che ha sostituito l'asino che era presente nella nostra cultura E quindi trovare l'ape nel racconto che parla della nostra storia Insomma, di quello che stiamo facendo E come dire, ritornare ancora a noi A quello che siamo E agli strumenti che stiamo utilizzando Per fare, diciamo Per fare questa operazione Che poi è il lavoro, no? E il fare E quindi usciamo fuori E siamo nel nostro campo di grano del palio E l'uscire fuori e poi alla fine ritornare dentro Alla, diciamo, per chi conosce le vicende Sono in tanti di campo di grano E naturalmente è più semplice Però ce ne stanno anche tanti altri che non, diciamo, lo conoscono Quindi io ti chiederei anche di raccontare un attimo Non solo questa esperienza che avete fatto nel 2012 E che ripeterete quest'anno Ma anche questa cosa bellissima Di questi ragazzi che Ho finito il campo E assillati O comunque preoccupati Dell'idea di dire Abbiamo fatto un'esperienza bellissima Però adesso è finita Invece poi voi Gli avete trovato Un pezzo di terreno Loro si sono messi a lavorare il grano E una parte di loro, diciamo Ha trovato il modo Comunque di rimanere O di ritornare qui Ecco, se tu ci racconti questa cosa Sì, tra l'altro è nella prospettiva delle immagini Il campo di grano che hanno seminato questi ragazzi L'obiettivo lo raggiunge Indicarlo con le mani E farlo capire a chi guarda è complesso Però a Sant'Alieno Hanno questo tumulo di terra Seminato con tre varietà di grano E' Angulidda, Risciola e Timunia Il campo di grano in pratica è nato Dall'esperienza che avevamo adorato noi Come gruppo indigeno Nell'ideazione e nella realizzazione del Padre Cioè un gruppo di giovani, di ragazzi Che con la Prologa e con un'altra associazione Si chiama Terra Madre Hanno iniziato a realizzare questa cosa E a lavorarci E quindi questa esperienza che noi abbiamo prodotto Per materializzare la festa Prodotta con le falci, con le zappe Per preparare il campo di grano per la gara L'abbiamo pensato come il momento forse più importante Che toccava a noi Ma che poteva toccare la comunità Quindi non solo la festa e la gara Il momento di consumo Quell'ora che si riempie di emozioni Assopisce subito dopo Cioè il momento in cui finisce Un consumo Pensavamo a questa possibilità Di far fare questa esperienza che avevamo fatto noi Pure a altri ragazzi che potevano venire da fuori E quindi La conoscenza poi di Michele Siga Bosconauta Di Alex Giordano L'Accademia Mediterranea di Society Ci ha dato la possibilità di creare un contest In rete E quindi di raccogliere le candidature Abbiamo raccolto 25 candidati Con delle motivazioni Alcune veramente Suggestionanti Insomma tipo Pigna Smile E abbiamo portato questi ragazzi qua La mattina alle 6 venivano sul campo di gara Iniziavano a lavorare con noi Per stagliare le piste Per preparare il campo per la gara Per realizzare la frescura Per realizzare l'anfiteatro con le balle di paglia Per realizzare qualche installazione artistica E quindi lavoravano Il pomeriggio invece erano dei momenti assembleari In questo anfiteatro con le balle di paglia Con docenti E la mattina invece erano maestri della terra Gli anziani del paese che insegnavano È un'esperienza che ha creato Una comunanza di indenti e di azioni favolose Il giorno siamo andati a pranzo a turno Nei rioni del paese No, è inutile dirlo Che la gente ci apriva le case E ci dava da bere, da mangiare Piuttosto che alcuni di loro Poi sono riusciti pure a gareggiare nel palio E alla fine di questo palio del grano Del 2012 Iniziava a noi a nascere la consapevolezza Che finito il palio E fosse finito pure il rapporto con questi ragazzi Un rapporto che aveva visto una condivisione Cioè nel lavoro Una settimana di lavoro Non finalizzata a raggiungere obiettivi di tipo economico O di tipo produttivi Ma a raggiungere obiettivi di tipo sociale Perché alla fine Oltre alla conoscenza del lavoro in sé Quindi al saper imbracciare una falce La conquista vera era l'appartenenza a questa comunità Il fatto che alcuni di loro hanno gareggiato nel palio Questo l'ha reso esplicito E quindi quando avevamo finito il palio Abbiamo pensato alla possibilità di dare questi ragazzi Un pezzo di terra a casella Cioè noi vi mettiamo a disposizione il terreno Lo volete venire a coltivare? E la cosa bella è successa che quest'anno L'11 di novembre sono ritornati a seminarsi Insomma il loro campo di grano Adesso ritorneranno tutti quanti Una cosa che mi ha ricordato molto Il vostro approccio La vostra modalità di lavorare Come ricordavi tu Antonio Anche adesso con la testa, con le mani e con il cuore E l'idea di Josephine Bacher Che amava dire che per lei la musica Era quella cosa che ti prende come se avessi Il diavolo in corpo e la febbre nel cuore L'idea di fare bene le cose L'idea di dare valore al lavoro Invece più che dare valore al denaro Di dare valore a ciò che sai Più che dare valore a ciò che hai Di dare valore a ciò che sai fare Più che dare valore a ciò che hai E queste cose qui Questo sforzo comune Io sono convinto che noi Abbiamo bisogno di ritornare a raccontarlo Noi adesso l'abbiamo fatto con un libro L'abbiamo fatto con un film La tela e ciliegio Che si può vedere naturalmente gratuitamente su Youtube Però io sono convinto che dal racconto di storie Come le vostre dal racconto di storie Che anche stamattina qui a Caselle in Vittori Hanno visto per protagonisti artigiani Lavoratori che condividono questo tipo di approccio Insomma noi come mi piace dire Possiamo portare il nostro piccolo mattoncino Per cambiare l'Italia Per cambiare il modo in cui il nostro paese si rappresenta Allora 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 Allora